ragazze buongiorno oggi abbiamo un bel video sorpresa mi sono sentita proprio chiamata a fare questo video perché volevo trasmettervi i messaggi che hanno per noi i maestri gli angeli tutto il nostro mondo di spiriti di guide anche gli spiriti animali che ci proteggono e che vogliono darci dei messaggi per questo nuovo anno questa lettura che farò buongiorno daniela e buongiorno patrizia è una lettura esemplificativa poi per chi volesse prenotare la propria lettura in privato personalizzata mirata mi può lasciare un cuoricino nei commenti oppure mi può scrivere in privato intanto do anche il buongiorno a maria pia iniziamo subito con la lettura per questo nuovo anno io sono curiosissima di vedere che messaggi hanno in serbo per noi allora il primo messaggio sono le lezioni che abbiamo imparato da quest'anno perché è vero sì che dobbiamo guardare al futuro e prepararci al nuovo anno ma dobbiamo anche ringraziare e vedere quali sono le lezioni che abbiamo imparato da quest'anno e adesso lo andiamo a vedere subito dunque 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 vediamo vediamo un po i messaggi le lezioni imparate da quest'anno ok allora custode del paradosso la vita è un gioco guardate come è bella questa carta è bellissimo questo è un oracolo nuovo che ho ma già mi piace tantissimo ha un'energia molto molto forte e il custode del paradosso la vita è un gioco adesso andiamo a vedere il messaggio nel libricino suo però a me diciamo questo messaggio mi risuona fortissimo perché mi fa pensare che tutto quello che abbiamo vissuto in quest'anno tutta questa pesantezza tutto questo sì queste tenebre io ho vissuto anche un periodo di tenebre e ancora li vivo ovviamente tenebre inteso come discesa nei lati più oscuri di me stessa e in quest'anno penso che un po tutti abbiamo avuto a che fare a causa di quello che ci succede intorno con i nostri lati oscuri no con le nostre tenebre però così come vedi questo questo clown questo giocoliere è un clown che ha una un viso non troppo scherzoso e diciamo che impersona un po noi quando ci prendiamo troppo sul serio però ti ti ricorda dice però vedi c'ha tutte queste carte questa magia ti ricorda dice guarda comunque osserva vai oltre e vedi che quando hai deciso di scendere su questa terra tu in realtà sapevi che questa terra era un gioco ok che era c'è tutto tutte le prove tutto ciò che tu vivi in realtà non è nient'altro che uno splendido enorme gioco lo devi prendere anche con leggerezza i tuoi nemici che in questo momento vedi come nemici in realtà fanno sono anche loro dei giocatori e come quando giochi a scacchi ok tutto è un gioco anche le persone che più ti sembrano diciamo odiose che tu proprio non sopporti anche loro fanno parte di questo gioco e quindi tu devi andare oltre e devi vedere che anche i tuoi nemici stanno soltanto interpretando un ruolo e tutto ciò contribuisce soltanto alla tua evoluzione anche i tuoi nemici senza nemici ok tu non potresti fare niente la vita sarebbe piatta tutto bello tutto free free tutto svolazzante che senso ha che noi siamo venuti su questa terra siamo venuti per giocare quindi ricordati che nelle difficoltà vai oltre vedi vedi guarda i tuoi nemici come se fossero degli avversari di un gioco delle pedine delle che hanno delle maschere ma in realtà sono buongiorno simona sono appunto dei soltanto dei giocatori che stanno lì per metterti in difficoltà ma in realtà sono anche i tuoi amici perché nel gioco i giocatori tra di loro nel gioco sono nemici ma al di fuori sono amici ok quindi questo è il messaggio la lezione più importante per quest'anno ok da interiorizzare è bellissima grazie veramente vediamo per curiosità il messaggio sul libricino del channeling vediamo che cosa ci dice allora gaia dove sta dove sta ah è il custode del paradosso ok custode del karma della polarità del paradosso quindi che succede cosa c'è che non vedi eppure sotto i tuoi occhi se per paura agisci a metà cadrai nella mia rete del paradosso io applico solo la legge che custodisco non sono cattivo ma amo sfidarti così da permetterti di apprendere la lezione vedi osserva bene c'è una matassa che non riesci a sbrogliare c'è una matassa che non riesce a sbrogliare una situazione da cui non riesce ad uscire eppure te l'ho detto la soluzione è sotto i tuoi occhi assicurati di guardare nella direzione giusta abbi il coraggio di rischiare perché può andare male può anche andare bene non lo saprai mai se non ti concedi la possibilità di provare la possibilità di giocare io sono il tuo sfidante ma sono anche tuo amico ecco qua quello che dicevamo prima e voglio vederti trionfare ma non puoi riuscirci senza tentare io credo in te e tu quindi ci invita proprio a giocare a prendere la vita come un gioco a sfidare anche a fare azioni che magari ci mettono un po in difficoltà però farle grande bellissimo questo era il la lezione imparata da quest'anno ok tutto il nostro anno si riassume si riassume in questa lezione adesso vediamo le energie vecchie da lasciare andare e come lasciarle andare ok se mi state scrivendo io purtroppo non riesco a vedere i vostri commenti però scrivetemi ok a eccola buongiorno mi arrivato il commento di maria via allora vediamo che cosa andiamo a lasciare andare lo facciamo con l'oracolo questo qui degli angeli angel therapy allora vediamo un po spazza via le paure eccoci qua vediamo un po che cosa dice l'arcangelo questo è l'arcangelo michele infatti invoca l'arcangelo michele e l'arcangelo raffaele per liberarti delle energie basate sulla paura spazzando le via da te dal tuo ambiente dalla situazione in cui ti trovi e da tutte le persone coinvolte quindi dobbiamo lasciare andare buongiorno clara ciao in quest'anno nuovo le vecchie energie basate sulla paura perché è anche un po molto collegato a questo dice ma se è un gioco di che cosa devi aver paura certo ci sta la paura è umana però ricordati sempre che stiamo giocando e che sei sempre sostenuto dalla dagli arcangeli dagli spiriti guida buongiorno barbara siamo sempre sostenuti quindi sono energie vecchie che tocca lasciare andare per quest'anno ok vediamo il messaggio sul libricino che cosa dice quindi spazza via le paure sì allora hai scelto questa carta perché tu o qualcuno che ti è vicino avete ossorbito energie basate sulla paura potrebbe trattarsi di energie generate dai tuoi presentimenti o dal contatto con persone piene di paure perché essendo noi donne empatiche quando entriamo in contatto con persone che vibrano basso spesso se non ci ripuliamo diventiamo anche noi molto paurose tutte le volte che ti senti stanco o che hai abusato di qualche sostanza per esempio durante una serata in un locale prenditi del tempo per depurarti puoi svolgere questo procedimento sempre e ovunque anche se sei in mezzo alla gente e puoi farlo anche per altre persone in loro presenza o a distanza basta che tu chieda oh scusami basta che tu chieda prima il permesso a voce o a livello psichico azione per aspirare tipo aspirapolvere le paure da te stesso o da un'altra persona basta che dici eccoci da anche proprio la preghiera da fare arcangelo michele arcangelo raffaele ora io vi invoco e vi prego di venire da me insieme agli angeli della compagnia della misericordia con il vostro aspiratore spirituale come se loro avessero un aspirapolvere spirituale che risucchia dal nostro chakra della corona tutte le energie basate sulla paura vi prego di infilare il tubo dell'aspiratore nel mio chakra della corona infatti questo e di aspirare via tutte le energie o le entità tossiche basate sulla paura quindi possiamo fare questa azione come se visualizziamo un aspirapolvere dell'arcangelo michele che ci tira su tutte le paure visualizza il tubo dell'aspiratore e sentilo ripulire tutto l'interno del tuo corpo compresi gli organi i muscoli e le ossa dalla testa alla punta dei piedi tremiti o altre reazioni fisiche sono segnali normali e positivi che indicano che il procedimento sta funzionando ok quindi devi un po' shakerarti un po' sentirti tremolante continua finché non senti il tuo corpo calmarsi poi di grazie michele e raffaele per questa guarigione ora vi prego di riempire il mio corpo con la vostra luce adamantina per guarirlo e proteggerlo quindi dopo che hai fatto questa operazione di pulizia devi fare un'operazione di protezione con la luce adamantina questo è ciò che dobbiamo lasciare andare quest'anno paure infondate basate dal contatto anche con altre persone e abbiamo gli strumenti per farlo grazie all'arcangelo michele l'arcangelo raffaele grazie veramente super 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 questa lettura mi sta piacendo tantissimo siete pronte per il numero 3 se state guardando questa diretta non adesso perché mi è venuta così improvvisamente ma dopo scrivete replay qua sotto invece se la state guardando adesso scrivete live se volete prenotare la lettura lasciate un cuoricino e io vi contatto in privato andiamo al messaggio numero 3 come raggiungere al meglio i tuoi obiettivi e i tuoi sogni e lo facciamo niente po po di meno che con l'oracolo degli spiriti animali che è super super allora vediamo un po' mamma che belle queste carte super energetiche allora poi sono tantissimo questi spiriti animali vediamo un po ok wow 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 spirito dello scarabeo la magia opera attraverso di te questa è una carta che ci serve per sapere come raggiungere al meglio i nostri obiettivi sapendo che siamo esseri magici noi tante volte viviamo una vita un po così un po come se se fossimo esseri umani normali piccoli insignificanti senza potere no 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 siamo esseri magici esseri di luce e per raggiungere i nostri obiettivi e questo lo ripeto anche a me stessa dobbiamo ricordarci che siamo esseri dotati di magia andiamoci a vedere la carta che cosa dice bellissimo allora spirito dello scarabeo dello scarabeo pqrs scoiattolo eccolo qua messaggio dell'oracolo nell'antico egitto lo scarabeo era oggetto di venerazione pertanto la magia creativa dello spirito dello scarabeo buongiorno elisabetta ci ricorda che abbiamo la possibilità di creare qualcosa di straordinario apparentemente dal nulla ogni volta che lasci fluire liberamente la creatività lo spirito dello scarabeo ti rammenta che lo spirito ti ha donato un potenziale infinito tu hai un alleato mentre crei qualcosa di nuovo o ricicli qualcosa di vecchio perché lo spirito crea assieme a te canalizzando l'energia attraverso di te affinché quindi canalizzando l'energia affinché tu ti possa sentire ricaricato e rigenerato mentre crei la magia con quello che ci ha portata di mano grande è l'ottimismo che governa questo periodo perché puoi realizzare qualunque cosa desideri e i tuoi sforzi creativi daranno i loro frutti miracoli opportunità abbondanza e amore si manifesteranno apparentemente dal nulla mentre permetti allo spirito di lavorare attraverso di te e di manifestare magicamente quello di cui hai bisogno bellissimo messaggio di protezione dubiti della tua magia interiore unica sì risposta sì spesso dubitiamo della nostra magia interiore temi di non essere originale o che la vena creativa non scorra in te forse credi erroneamente di non essere un tipo creativo il messaggio dello spirito dello scarabbeo ti dice che la creatività è una forza vitale che lo spirito concede a tutti noi il quale desidera che ogni persona sul pianeta manifesti la magia e collabori a ricreare il mondo tu possiamo assiedi la capacità di resilienza e di innovazione come chiunque altro se fai quello che hai sempre fatto otterrai quello che hai sempre ottenuto quindi attira l'ispirazione e inizia a creare gioiosamente qualcosa di nuovo e fallo senza giudicare la creatività e la magia sono l'eredità che hai ricevuto come espressione del creatore quindi lascia le scorrere attraverso di te buongiorno emanuela capito non dobbiamo pensare di non essere originali dobbiamo lasciare che questa creatività scorra attraverso di noi e se ti posso dare un ulteriore consiglio se per esempio in questo anno nuovo anno puoi creare qualcosa che sia un nuovo hobby che sia un nuovo lavoro e non ti ci metti perché dici non mi vengono le idee tu inizia a fare se non fai e se rimani bloccata non ti viene lo spirito non può scorrere lo spirito per la mia esperienza ti scorre quando tu inizi a fare anche se all'inizio faranno schifo le cose che poi schifo è sempre un giudizio ok un giudizio nostro magari per un'altra persona non è uno schifo è una cosa bella magari vuoi creare dei gioielli vuoi creare delle pietre colorate dei mandala all'inizio ti sembrerà tutto brutto ma in realtà allo spirito questo non interessa al tuo spirito non interessa il risultato vuole che tu faccia poi mano a mano che tu fai e ti immergi nell'azione vedi che lo spirito continuerà a scorrere sempre di più tu ti sentirai sempre più ispirata e continuerai lo scarabbeo ci dice che c'è magia in noi veramente super questa era era il messaggio su come raggiungere al meglio i tuoi obiettivi e i tuoi sogni e penso che il fatto che sappiamo che noi siamo esseri magici e che siamo e c'è uno spirito di creatività dentro di noi è qualcosa di super adesso vediamo quali sono possono essere dei talenti da esternare per te e delle missioni per per te in quest'anno ok lo vediamo con questo bellissimo oracolo oh 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 amici ok allora questa carta di solito esce quando c'è bisogno c'è bisogno di un riappacificamento ok vedi che c'è il lupo nero e la lupa bianca la lupa bianca ha in sé il seme del nero e il lupo nero in sé il seme del bianco questa carta di solito ci indica se è uscita in questo con questo diciamo per parlare dei talenti delle missioni vuol dire che il tuo talento e la tua miss uno delle due missioni di quest'anno sarà riuscire a vedere questa cosa riuscire a vedere che tutte le persone che ti sembrano dei nemici in realtà sono delle tue sono delle anime che si sono messe d'accordo con te sul piano eterico prima di venire qui e ti si stanno mettendo contro perché vogliono farti evolvere uno dei tuoi talenti in quest'anno delle tue missioni da portare nel mondo è di dirvi prima capirlo tu quindi innanzitutto inizia a pensare a tutte le persone che in questo momento odi che ti stanno creando problemi bel respiro profondo e inizia a pensare che sono dei tuoi amici ok che sono venuti qui per farti evolvere quindi dici come posso sfruttare questa situazione che questa persona mi sta provocando a mio vantaggio come la posso sfruttare lui mi sta facendo uscire dei talenti da me mi vuole far uscire dei talenti che in questo momento io non sapevo come esprimere lui però facendomi arrabbiare perché la rabbia un'energia creativa che serve per magari quando ci ammusciamo troppo la rabbia arriva per dirti o te vuoi da una mossa serve come fuoco come un pentolone ringrazia questa persona che ti ha fatto arrabbiare e adesso fatti la domanda che cosa posso trarre come posso sfruttare questa mia rabbia questa energia a mio favore cosa posso creare quale talento posso mettere nel mondo questo è il messaggio più forte che mi viene in questo momento per raggiungere i tuoi talenti e i tuoi obiettivi super veramente super adesso andiamo a vedere invece il decreto di questo nuovo anno per te mamma mia quanti messaggi bellissimi che stanno uscendo adesso non voglio immaginare che cosa ci porta il decreto allora vediamo un po quale sarà il decreto per il decreto per questo nuovo anno vediamo un po vediamo un po questa 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 allora fliene c'è anche fliene vicino a me oh ne sono usciti due facciamo questa facciamo questa qui ma direi tutte e due in realtà perché sono uscite insieme la prima è e se fossi io il maestro fantastica anche per la realizzazione della missione dell'anima presto sarai chiamato ad insegnare qualcosa a qualcuno non tirarti indietro forse lo scopo della tua vita scopo uscito prima è connesso all'insegnamento in cuor tuo hai sempre saputo di avere un ruolo importante da svolgere qui sul pianeta terra qual è una cosa in cui ti senti bravo inizia a condividere il tuo sapere con gli altri oggi stesso lo aiuterai molto più di quanto pensi questo è connessissimo con i talenti ragazze connessissimo devi iniziare a sentirti maestra in una cosa che tu pensi in cui tu pensi di essere brava se tu pensi di non essere brava in niente chiedilo alle tue amiche ai tuoi familiari in che cosa secondo te io sono bravissima cosa sono bravissima a fare questa è una domanda molto potente che puoi fare vediamo l'altro messaggio perché ne sono usciti due insieme l'universo scorre in me mi apro alla grazia bellissimo la tua anima ha bisogno di passare più tempo a contatto con la fonte senti che qualcosa di infinito scorre in te che la scintilla divina si sta risvegliando e hai bisogno di nutrirla affinché possa crescere e sbocciare inizia a muoverti con armonia e non a scatti questa è una cosa molto femminile parla poco e ascolta molto sorridi spesso si generoso tollerante amorevole apriti alla grazia sarà un'esperienza mistica super super questo decreto mamma mia me lo devo mettere incorniciato in un quadretto l'universo scorre in me non so se avete percepito la potenza l'universo scorre in me io vi devo dire che prima di fare questa lettura ho avuto una visione galassie pianeti cose bellissime ho avuto queste una visione bellissima proprio dell'universo che scorreva in me ci con dobbiamo connettere più spesso alla fonte perché ce lo dimentichiamo grazie grazie vediamo l'ultimo messaggio ragazze relazione ed emozioni nell'anno che verrà da cosa saranno influenzate allora aspettate che mischio di nuovo perché prima abbiamo usato abbiamo usato il questo stesso oracolo quindi lo andiamo a meschiare di nuovo tata 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 allora vediamo vediamo un po le nostre relazioni da che cosa verranno influenzate un consiglio dai maestri per le relazioni serendipiti serendipiti allora quest'anno non ci sta niente altro da aggiungere serendipiti relazioni top ci sarà uno sbocciare ok buongiorno marilu non sapevo che fossi qui ciao quest'anno le relazioni saranno influenzate dalla serendipitità che vuol dire serendipitità vuol dire che quando noi iniziamo a mettere l'attenzione il nostro focus a notare ok notare le cose belle delle nostre relazioni quindi anche cose piccole anche nelle relazioni con la nostra famiglia per esempio quando tu metti l'attenzione su una cosa bella a cascata così come queste farfalle escono a cascata da questo baule si a effetto proprio palla di neve si amplificheranno nella tua vita quindi inizia a pensare già da adesso perché cosa io sono grata nella mia vita non per forza per la storia d'amore che adesso non c'è ma nella tua vita cosa hai che ti fa stare bene a livello di relazioni magari delle relazioni fantastiche nella tua famiglia con tuo figlio con il gatto hai una relazione bellissima col tuo gatto con il tuo cane con con la vita hai una relazione bellissima con la tua casa può essere con qualsiasi cosa gli oggetti io sto imparando in questo periodo hanno una loro anima vogliono anche loro essere tra non trascurati ma vogliono essere considerati e ve lo posso assicurare perché la mia casa in questo momento siccome non ci sono stata si è sentita trascurata inizia ad avere dei problemi mai avuti in 35 anni che io vivo qui quindi anche la relazione con la tua casa che cosa perché cosa sei grata cosa noti adesso che già va bene notando quello che già va bene per la legge di attrazione per la legge della serendipidità inizierai ad attrarre a cascata altre situazioni positive te lo posso garantire ok inizia a focalizzarti su questo e poi vedrai che l'amore si manifesterà anzi è già se tu non lo noti non c'è quando lo cos'è quella cosa che quando non la noti non c'è quando la noti c'è l'amore l'amore già c'è nella tua vita la devi solo notare nelle piccole cose non serve la storia romantica quello è una parte della vita è una parte dell'amore ok l'amore romantico ma poi c'è l'amore universale l'amore verso la natura l'amore verso gli animali l'amore verso l'amore verso te stessa che tante tantissime volte trascuriamo anzi proprio messo all'ultimo posto cosa ti piace di te stessa guardate allo specchio ditti io non sono niente male trattati bene curati truccati fatti massaggi serendipidità parola chiave per le relazioni di quest'anno io penso che questa lettura sia stata fantastica veramente mi ha dato una carica pazzesca condividetela ok con le persone che conoscete invitatele ad entrare in questo gruppo non è un gruppo chiuso un gruppo aperto per le persone interessate a coltivare ad avere relazioni fantastiche a liberarsi da relazioni e da cose che non ci servono più e ad avere una vita veramente top ok in tutti i sensi quindi invitate anche altre persone se volete prenotare quando siete pronte a prenotare la vostra affare ad avere la vostra lettura per l'anno nuovo scrivetemi in privato o mi lasciate un cuoricino e io vi contatterò e intanto vi ringrazio per essere state qua e vi auguro un felicissimo anno nuovo poi tanto ci rivediamo perché facciamo anche un'altra diretta in questo gruppo prima della fine dell'anno ok può darsi anche stasera non lo so non lo so non vi prometto adesso adesso sto molto così piena di cose da da fare anche per la famiglia quindi vi faccio sapere appena ci sarà la nuova diretta ok un bacione ragazze si da far diventare il tuo mantra si ok